www.feyyaz.tv Con l'aiuto di Dio, non mi metti a fare del mio meglio. Quanti campi hai fatto? Questo è il terzo. Ho fatto tre campi. Cinque da guida, due da coccinella e una ruta. Il motto? E sto preparata. Servire. Come sei entrata nelle guide? Attraverso una mia amica. Dato che mio fratello andava in scout mi sono voluta aggiungere pure io. Tutte le mie amiche erano entrate nelle coccinelle e entriamo. Dove siamo oggi? Ah, Soriano nel Cimino. Soriano del Cimino, nel Cimino. A Viterbo. Perché sei qui oggi? Per festeggiare il centenario del guidismo. Per celebrare i centroni di guidismo. L'esperienza che non dimenticherai mai? Quando ho fatto la promessa. Quando ho ricevuto un premio particolare dai capi, il premio del sorriso. Tutte le cadute che ho fatto. La prima volta che hai pensato che è bello essere guida. Quando non sai più che fare e vedi la gente intorno che ti sorride. Appena sono entrata. Dopo un anno che ero nel riparto. Uno dei valori che ti hanno insegnato è quello di fare la buona azione quotidiana. Sì. La mia amica a medicare il lito rotto. Oggi. La cosa più divertente che hai fatto in un campo? Le milanzane caramellate. Al campo di Harry Potter far finta di lanciare incantesimi. Troppe cose divertenti. Il canto scout che ti piace di più? Piccolo pipistrello. Danza la vita. Madonna degli scout. Cantacelo. Madonna degli scout, ascolta, ti invochiamo. Danza la vita al ritmo dello spirito. Danza, danza. Piccolo pipistrello mio, che hai fatto stanotte, che occhiai che hai? Cosa ti lega di più alle guide? La comunità. Sarei tutti insieme. Quello spirito di fratellanza, comunque di aiuto reciproco. Le amiche. Come vai a scuola? La macchina. Vai seriamente? Molto bene. Cosa fai quando non studi? Gioco a Nintendo. Leggo. Suono il flauto. Cartoni animati in tv o passeggiata all'aria aperta? Siamo ai scout, passeggiata all'aria aperta. Pasa qualche cartone. Ami la natura? Sì, molto. Cosa fai per salvaguardare la natura? Non butto le carte per terra. Non butto mai i fiuti in mezzo alla strada. Al posto di girare il motorino. La corte differenziata. Prendo la bicicletta. Non faccio incisioni sugli alberi. Ami gli animali? Sì. Ne hai uno? Criceto. Un gatto. Quattro gatti. Un cane. Un cane. Cosa ti piacerebbe fare da grande? La veterinaria. Traduttrice e interprete. Ingegneria genetica. Dacci una buona ragione per entrare nelle guide. Il divertimento. Perché avrai sempre amiche a fianco che non ti lasciano male. Impari a conoscere la natura e che comunque la vita non è fatta solo di comodità. Bisogna anche darsi da fare, mettersi al lavoro, alla prova. Il tuo saluto scout. Buon volo. Buona caccia. Buona strada. 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 Buona strada.